Ora ragazzi siamo dentro il parco Pertina a campeggiare Agliana. Questa è la famosa cinta aglianese, molto più buona di quella senese a Siena agliano copiato, diciamo sì. Vedete gli ha fatto la crosticina, ma andiamo adesso a mettici il famoso miele di spedalino, con le api allevate a spedalino, vedete che bontà ragazzi, che specialità. Questa è la vera ricetta aglianese proprio, da non sbagliarsi con quella paratina che non la sanno fare. Le vere cinte d'oppe, diciamo, d'agliana, sono allevate esclusivamente con l'acqua di parco Pertini. Vedete, si va a mettere, diciamo, sopra questa spezia e che gli è 0,0. E perché no, andiamo a metterci anche, diciamo, un po' di paprika, la famosa paprika della rotonda d'agliana. Il famoso pepe di Castelletto, perché a Castelletto c'hanno il pepe, diciamo, speciale. Vedete, tipi a cinta aglianese ragazzi, aglianese, il limone in bocca, a cinta aglianese, presse e cortivata a stazione, direttamente. Allora, agliana sono famosi, infatti, per il panino o la porchetta. Con il panino di porchetta di cinta aglianese, mi raccomando, aglianese ragazzi. Che spettacola di fare, ragazzi, anche qui mi fa gola anche a me. Questo non mangiano, questo non è buono, te lo dico io. Questo è goduria, vedete, ho il dito suddice, si va, le va alla crosticina, si va a mangiagnene. In modo che i baho, i baho d'Atene, d'Atenea, della Grecia, comunque non baho viene dalla Grecia. Gli è un baho, diciamo, che ti va a mangiare poi l'intestino dopo. Comunque ragazzi, vi si aspetta il 7 luglio a Agliana, provincia di Pistoia. Festa della birra, amici miei, secondo raduno internazionale dei bucaioli, ragazzi. Bucaioli, c'è le paste, vi si aspetterà, ci sarà una grandissima festa. Ci sarà da mangiare tipicamente toscano, ci sarà da bere, ci sarà da divertirsi. Come Toscana, Maremma, Maiala, Light, sì, Light, Live, che Light.